Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Gian Nattasio. In A11 un chilometro di coda per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola in direzione Firenze. Segnalato poi personale su strada nel tratto tra l'allacciamento a 12 Pisa e l'allacciamento a 12 Lucca in entrambe le direzioni. Sulla FIPILI ci sono code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e l'allacciamento 1 Firenze-Scandici in direzione Firenze. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, a Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali e per i lavori della tramvia di vieto di sosta permanente in via Guasti tra piazza Viese e piazza Muratori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!